Bene, abbiamo appreso appena il nostro campione di acqua, bellissimi laghetti purtroppo sono stati abbandonati, una cosa mi dispiace parecchio, spero che possano riattivarli perché sono un po' più dietro casa, vediamo ho preso l'acqua e adesso andiamo ad attivare sul mio filtro per vedere un attimo di far partire questo benedetto acquario, ovviamente pubblicità occulta perché chi mi conosce bene sa che gestisco anche una palestra di sport da combattimento e adesso andiamo a riempire il nostro acquario con i bacilli, ciao vediamo vediamo. Bene, abbiamo parcheggiato, adesso prendiamo la nostra bella acquetta con i microrganismi, la portiamo nel mio acquario, bene ragazzi colore giallo paglierino microrganismi a go go per attivare il mio acquario, inseriamo, di sinistra, vedete bene, perfetto, acquario parte 2 finita, ci sarà la parte 3 spero tra un po' con il pesce, mi raccomando presi in sempre formati, in campanellina, ciao ragazzi!